Quando si viene da una settimana in cui si è riuscito a centrare l'obiettivo è chiaro che si ha la possibilità di lavorare sicuramente meglio, si ha la possibilità di lavorare con più serenità, con più gioia, ma questo fa parte del calcio. Ci arriviamo sicuramente pronti, è stata una settimana in cui abbiamo provato a lavorare, a provare delle situazioni, a sviluppare delle dinamiche che potrebbero darci dei vantaggi, avremo di fronte un avversario che sta facendo un percorso importante, anche nell'ultima partita lo ha dimostrato perché anche andandole a guardare sicuramente non meritavano la sconfitta per quanto prodotto nell'arco dei 95 minuti. Una squadra che esprime sicuramente un bel calcio, al di là di quello che è successo all'andata, una squadra che all'interno della propria rosa ha delle caratteristiche sia di qualità che di quantità negli interpreti che scendono in campo, quindi sicuramente sarà un avversario importante da affrontare e dobbiamo avere quell'atteggiamento che potrebbe portarci ad ottenere il risultato che vogliamo. In campo metteremo sicuramente più conoscenza di quelle che sono le caratteristiche degli avversari grazie, come le ho appena detto, a un intero girone d'andata che ci ha dato la possibilità di sapere, di conoscere quelle che sono le caratteristiche degli avversari, nello specifico quelle del Giuliano che oltre a sviluppare, ad esprimere un bel calcio, come dicevo prima, ha all'interno della propria squadra, della propria rosa delle caratteristiche ben precise, sia sulla linea del reparto offensivo e quindi con Ciufferi, Salvemini, lo stesso Balde, De Sena, Ovisac, sono dei giocatori che hanno delle caratteristiche precise e pericolose per adoperare quel tipo di calcio lì, e anche nel reparto di centrocampo dove con l'acquisto di Romano hanno acquisito ancora più movimento in mezzo al campo, più fisicità ed è un giocatore che sicuramente gli dà qualcosa in più. Allora, D'Ausilio non ha smaltito bene subito dopo la gara una botta che ha preso al ginocchio e quindi questo lo ha portato a rimanere ai margini degli allenamenti per un paio di giorni. Ieri è rientrato, ha provato a fare qualcosa con la squadra, ha avuto una buona reazione, ha lavorato bene, è chiaro che dobbiamo vedere oggi come si ripresenta il campo, si avverte dei fastidi rispetto al lavoro che ha fatto ieri e quindi lo valuteremo oggi, ma io credo che sarà della gara perché ieri ho avuto buone sensazioni. Per quanto riguarda Sgarbi, chiaramente oltre a una strategia, oltre a una scelta fatta per far sì che riuscissimo a trovare delle soluzioni diverse contro delle squadre con dei valori diversi dai nostri, aveva bisogno anche di un turno di riposo che sicuramente gli ha fatto bene, che sicuramente gli ha dato la possibilità poi di ripresentarsi e a partita in corso con degli spazi importanti da andare ad occupare e anche durante la settimana per avere più energie, per lavorare e prepararsi al meglio per la gara di domani. Per dosilio ho appena detto che è rimasto ai margini per i primi due giorni della settimana di allenamento, ma poi ha cominciato a lavorare fino ad arrivare all'allenamento di ieri dove ha lavorato con la squadra, quindi se oggi risponderà bene rispetto al lavoro fatto ieri, quando dico che è a disposizione, sarà della gara, vuol dire che può giocare dall'inizio, vuol dire che può subentrare, vuol dire che è a disposizione al 100%. Tito è nei miei pensieri giorno e notte, così come lo è Pezzella, così come lo è M. Moulet, così come lo sono tutti i giocatori che hanno dato il proprio contributo a questa squadra e lo saranno sempre perché ci sarà e c'è bisogno di tutti. Poi altre situazioni, quella di Russo e Sgarbi è una soluzione che abbiamo provato anche a partita in corso, è una situazione su cui possiamo lavorarci perché le caratteristiche dei giocatori che li ha citato ce lo permettono e quindi è una situazione su cui noi ci lavoriamo anche durante la settimana e può essere una soluzione dall'inizio o anche a partita in corso. Ora spostiamo il pensiero su qualcosa che ci fa togliere l'attenzione, che ci fa togliere l'energia per la gara di domani. Arrivare ai secondi in questo momento sicuramente è un obiettivo per noi, sicuramente arrivarci anche dal punto di vista mentale è un qualcosa che potrebbe darci quella situazione, quella spinta, quella carica e senza dimenticarci che potrebbe farci riabbracciare la nostra gente. Non l'elemento terza non mi piace, io sono allenatore dell'Avellino e quindi parlerò dell'Avellino, parlerò dei miei ragazzi, parlerò dei nostri tifosi, della nostra città e di quello che stiamo vivendo noi. Degli altri ci deve interessare poco o meno o niente perché andremo a parlare di cose che non ci interessano e che non ci riguardano. Nelle caratteristiche dei giocatori che abbiamo messo nel mercato di gennaio sicuramente sono quei giocatori che ci danno l'opportunità di avere più velocità, più dinamismo dentro al campo e in mezzo al campo che era un po' quello che cercavamo, che era un po' quella caratteristica che ci mancava e rispetto a quelle che sono le caratteristiche degli avversari, questi giocatori possono sicuramente darci qualcosa in più. Non è un periodo di gelo, è una situazione di fatto, è una situazione che stiamo vivendo nel senso che i tifosi hanno espresso il loro rammarico come è giusto che sia, l'hanno fatto nella maniera giusta, pacifica, normale, serena, noi abbiamo già risposto al riguardo accettando perché poi i numeri ci dicono che è così e sta a noi cambiare questa situazione attraverso i risultati, attraverso le prestazioni, l'abbiamo già detto, di tornarci su ora sembra andare a cercare di alzare la polvere, alzare un qualcosa che porta solo energie negative e noi non abbiamo bisogno di questa roba qua. I tifosi sanno che noi ce la stiamo mettendo tutta, noi sappiamo benissimo che per riconquistarli c'è bisogno di fare dei risultati e dobbiamo solo lavorare. Se sono al massimo non lo so, quello poi bisogna scoprirlo di volta in volta, di partita in partita quindi anche perché sennò andremo a mettere dei limiti e noi non dobbiamo mettere dei limiti né dal punto di vista degli obiettivi né dal punto di vista fisico. Per quanto riguarda Varela è un paio di giorni che ha ripreso a correre e questa è sicuramente per noi una notizia importante, una notizia molto positiva perché nel momento in cui riprende a correre vuol dire che anche fisicamente hai delle sensazioni che ti spingono e che ti permettono di poter fare quello che stiamo provando a fare con lui e quindi questo ci fa ben sperare. Vedremo ora chiaramente poi nei prossimi giorni come reagirà a quella che è la prova fisica a cui lo stiamo sottoponendo. Io vorrei avere sempre questo tipo di problema perché nel momento in cui ho più possibilità di scegliere per me alla fine è un pensiero in più ma è sicuramente un vantaggio. In linea generale oltre agli acciacchi che abbiamo avuto all'inizio della settimana o d'ausilio di cui abbiamo appena parlato, Patierno che ha avuto qualche affaticamento nel post gara ma che ha smaltito subito dopo i primi due giorni di allenamento. In linea di massima stanno tutti bene se non Palmiero che ieri ha avuto un'influenza e quindi dobbiamo valutare oggi come è messo. L'adrenalina, le situazioni, le dinamiche che si sviluppano all'interno della gara non si possono gestire, non si possono prevedere e quindi ognuno di loro deve scendere in campo sapendo che deve dare il massimo senza andare con pensieri diversi da quello che è poi il ritmo della gara e da quella che è poi la scelta da fare nella situazione se c'è da spendere un fallo. Quando dico che vorrei sempre avere problemi di abbondanza è proprio per questo. Nel momento in cui un diffidato viene ammonito e quindi è costretto a saltare avrò sicuramente la possibilità di sostituirlo con un giocatore all'altezza.